E' tra le mete più ambite del 2018, la Puglia. Lo dice il rapporto previsionale di Demoscopica. Secondo il gruppo italiano per le ricerche di opinione e di mercato, gli arrivi sul territorio regionale aumenteranno del 2,7% e le presenze dell'1,6%. Ma non basta. Il tacco dello stivale figura sul podio delle destinazioni caratterizzate, da una durata del soggiorno superiore alla media nazionale, con 3,84 notti per cliente, a fronte delle 3,37 notti di tutta l'Italia. Questi i dati riferiti dalla regione, la cui Agenzia per il Turismo, Puglia Promozione, sottolinea anche altri risultati lusinghieri. Stando a quanto comunicato dal 70% delle strutture ricettive attive, infatti, nei primi sei mesi dell'anno si è registrato un nuovo incremento di arrivi e presenze. A fungere da traino, la componente estera della domanda, che segna un più 10% per gli arrivi e un più 7% per le presenze rispetto allo stesso periodo del 2017. Soddisfatta ma non paga, Loredana Capone, assessore regionale al turismo. Stiamo già lavorando per l'autunno, l'inverno e la primavera prossimi, ha annunciato. Per poi aggiungere, ci appelliamo a tutti gli operatori turistici e culturali attraverso il bando Puglia 360 di Puglia Promozione, con cui abbiamo stanziato 1.600.000 euro per animare e rendere più attrattiva l'intera regione. Quanto ai luoghi di provenienza degli stranieri che sceglieranno la Puglia nel 2018, la maggior parte è in arrivo da Paesi Bassi, Polonia, Francia, Spagna e Stati Uniti. Il tasso di internazionalizzazione, cioè la quantità di stranieri rispetto al totale dei turisti, ha toccato il 27% nel semestre iniziale dell'anno, due punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo del 2017.